rivoluzione a sorpresa su whatsapp d'ora in avanti tutte le chat e perfino le telefonate effettuate tramite il sistema di messaggeria istantanea vengono automaticamente codificate in modo da risultare illeggibili in eventuali intercettazioni i messaggi che invii in questa chat e le chiamate sono ora protetti con la criptografia end to end si legge nel messaggio che d'ora in poi gli utenti vedranno nell'app avvicinare i più piccoli al mondo della robotica e della tecnologia con corsi di formazione grazie all'utilizzo di un linguaggio più semplice e diretto facilmente comprensibile per i nativi digitali è l'obiettivo dell'associazione ital maker una specie di accademia per gli inventori junior droni per aiutare a combattere l'hiv in malawi paese dell'africa in cui c'è un'altissima diffusione del virus dell'ids circa il 10 per cento della popolazione l'unicef ha lanciato un progetto che potrebbe avere un ruolo determinante soprattutto per curare i bambini i droni potrebbero ridurre drasticamente i tempi d'attesa dei risultati dei test del sangue che per chi vive nelle zone rurali sono spesso tempi lunghissimi a causa delle difficoltà dei collegamenti e delle strade disastrate